Ultimo appuntamento a Bitonto per il progetto Impariamo a Mangiare Sano che da gennaio ha portato 600 alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balice alla scoperta delle sue bellezze e delle sue ricchezze. Al Via è il quarto laboratorio dedicato all'importanza di mangiare frutta, preferibilmente locale. I bambini sono un po' più timidi con la frutta, quindi stiamo cercando il più possibile di sensibilizzare sia sulla stagionalità sia sulla qualità degli ingredienti. Noi abbiamo proposto, visto la stagione, di far mangiare ai bambini mele e arance. Stiamo proponendo questi prodotti non solo perché li abbiamo qui, in Masseria, ma anche per fargli capire l'importanza di quello che è il prodotto. Promossa da Regione Puglia e Comune di Bitonto in collaborazione con Masseria Lama Balice, l'iniziativa ha incluso quattro appuntamenti in Masseria Didattica. Il primo appuntamento a gennaio è stato dedicato all'olio extravergine di oliva e in particolare al cima di Bitonto. Il secondo, a febbraio, ha l'importanza nell'alimentazione degli ortaggi. Il terzo è stato dedicato all'ambiente e al territorio del Parco Naturale regionale di Lama Balice, alle sue caratteristiche geologiche, storiche, archeologiche e naturali di eccezionale valore culturale. Nel corso di questa quarta tappa, invece, i ragazzi hanno appreso l'importanza, per una vita in buona salute, di un'alimentazione che comprende la frutta, meglio se di stagione, importante fonte di vitamine, sali minerali e fibre. L'attività ha mirato ad avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della frutta e alle sue più dolci declinazioni, come marmellate e confetture, e conoscere le tipicità del nostro territorio, la stagionalità e il modo di coltivarle e di raccoglierle. Sono più propensi a non usare, mangiare merendine di produzione industriale, ma merendine, merende fatte a casa, come i ciambelloni, le torte delle nonne, o anche semplicemente a bere succhi di frutta non industriali, ma premute d'arancia e così via. Il 3 maggio si terrà la festa finale a conclusione del progetto. Saranno presenti i rappresentanti di enti e istituzioni che hanno supportato e promosso l'iniziativa. L'avevamo sostenuto sin al momento della presentazione di questo progetto, l'opportunità, la necessità di fare una importante campagna di sensibilizzazione, di prevenzione soprattutto a quella che è la materia alimentare, a quella che è l'educazione alla salute. Noi riteniamo che questa sia la strada da percorrere, la strada intrapresa, quella della sinergia con le associazioni del territorio, con le scuole, con le famiglie. E' importante far capire da che parte stiamo, da che parte vogliamo andare, quali risultati vogliamo raggiungere.